buongiorno a tutti cari ragazzuoli benvenuti o bentornati nel mio canale oggi vi voglio portare questo video brevissimo proprio un video flash solo per annunciarvi che anche io diciamo così per gioco ho deciso di partecipare al contest di web star channel praticamente questo questo gruppo appunto ha aperto questo contest a tutti youtuber e praticamente chi vince avrà la possibilità di vincere dei premi per espandere il proprio canale io vi dico subito che non ho minimamente l'ambizione di vincere l'ho fatto così per gioco e tanto per vedere a quale numero di mi piace può arrivare il mio video tutto qua praticamente tutti possono partecipare il contest si basa sostanzialmente in due categorie la categoria da zero a mille iscritti e la seconda categoria dove parteciperò io dai mille iscritti in su quindi capite che anche la categoria molto più difficile e quindi sappiamo che ci sono dei canali che hanno tantissimi iscritti che parteciperanno e quindi capite che la mia non è la l'ambizione di vincere è più una cosa così divertente per gioco ho partecipato con il video dell'unboxing di the witcher 3 perché ha visto ho visto che ha avuto un buon successo e quindi dai niente sostanzialmente volevo informarvi di questa cosa nell'infobox sotto in descrizione vi lascerò il link della pagina facebook di web star channel e quindi niente vi chiedo se vi va di supportarmi e visitando appunto questa pagina basterà scorrere un pochino in giù nei vari video caricati troverete il mio il mio video e se vi va di supportarmi a questo contest lasciare un mi piace appunto sotto il mio video nella pagina facebook o oppure una una reaction che sappiamo che adesso su su facebook si possono lasciare anche le reaction tipo wow tipo il cuoricino insomma quello che volete voi o e se vi va magari anche un commento ma quello è non è obbligatorio è facoltativo se vi va lasciate un commento ma mi piacerebbe vedere che appunto il mio il mio video venga supportato da da voi no che così almeno proviamo a salire di graduatoria quindi ecco basta ragazzi questo era un video brevissimo solo di per informarvi di di questa cosa mi raccomando passate supportatemi lasciate un bel mi piace sotto il video di facebook se vi va anche sotto questo ecco magari condividetelo che allora magari lo facciamo lo facciamo vedere a più persone possibili e niente ragazzi tutto qua noi ci vediamo come sempre ad un prossimo video ciao ragazzuoli ciao 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 ciao